Roberto Genta, 0-0 con i primi della classe, timore riverenziale direi 0 anche quello, la partita abbiamo visto si è svolta su entrambi i fronti, potrebbe essere vinta o persa, quindi un pareggio sostanzialmente giusto? Pareggio giusto perché il primo tempo ho valutato che sia stato a favore nostro, nel senso che abbiamo fatto molto più occasioni, loro hanno giocato un calcio migliore, questo è un dato di fatto, nel senso che il calcio che hanno espresso è un calcio da categoria superiore. Facciamo riferimento che invece nel secondo tempo la loro formazione ha giocato sicuramente molto meglio, ha fatto molte più azioni gol delle nostre, quindi tutto sommato ci sta, io credo che ci siamo difesi molto bene, oggi abbiamo mostrato di essere in grado di difenderci contro qualsiasi formazione, abbiamo usato una tattica già utilizzata a Cervia, quindi con tre a zone e un marcamento a uomo e abbiamo visto che i risultati ci sono stati, la partita poteva finire in qualsiasi modo, nel senso che poteva vincere loro come noi e nessuno avrebbe avuto da dire nulla. Forse il pareggio in questo caso per noi è importantissimo proprio perché ci fa capire ancora una volta che stiamo crescendo e crescendo veramente moltissimo. Per quanto riguarda la partita io avrei voluto qualcosa in più dalle ragazze, però va benissimo anche perché non bisogna esagerare con questo gruppo che sta dando veramente tanto. Grazie